Partita la finale, allora è subito Giotto con Bullay, Giotto Bullay ora anche Monchiero, Covelli, anche Burr all'esterno ed è ora Burra che si è portato in testa. Era Silvestri e siamo al passaggio Campana di meno 23, Silvestri in testa al gruppo con Balini dietro ed è Balini a lanciare la volata lunga per i punti. 3-3-8-316, questi i primi punti, ora è Giotto che rilancia l'azione. Manuel Giotto ha preso la campana di meno 21, all'esterno Bullay Ardit va a lanciare la volata per i punti. 2-9-2, 2-4-6, Ardit, Bullay Ardit, Balini a infiotto. Ora l'atleta della Bosica che si è portato in testa, Jacoponi. E allora Jacoponi, Giotto, Bullay, Burro, Monchiero, poi due atleti del Musco. 2-80-2-46. Ora c'è un rallentamento, vediamo se il gruppo ritorna sotto. Ora il passaggio di meno 17, è l'atleta dell'Aretusa Skate che si porta in testa, Cassarino. Con Morelli alle spalle, vogliamo vedere i punti. 34-2-6-1 al passaggio, quindi Morelli e poi Cassarino. Campana! Ed è ora Burro che si lancia, ma Ardit, Mullay Ardit, rilancia l'azione con Giotto che si mette alle sue spalle, ma Mullay va a prendere questi punti. 2-9-2, 2-4-6. Mullay, Giotto. Intanto sotto l'azione di questi atleti, il gruppo dietro è abbastanza allungato. ed è ora Burro che rilancia. Prende la campana di meno 13, Burro, Monchiero, Mullay, Giotto, Giacofoni, Valini e via via tutti gli altri. ed è 2-3-6-7, Burro, Monchiero. 2-9-2, ammunizione. Ora è l'atleta della Bosica a rilanciare subito l'azione. Giacofoni con Valini alle spalle. Prendono margine. Ecco, bisogna fare bene i conti di chi ha preso punti, perché è stata una gara molto combattuta, dove i punti li hanno presi in tanti. 3-3-280 in questo momento al passaggio. Continuano, vediamo se sarà una fuga per Valini e Giacofoni. Intanto prendono la campana di meno 9. Ora è Giotto che si lancia per andare a chiudere il gruppo. Ancora in testa Valini e Giacofoni. L'azione di Giotto dietro ha fatto esplodere il gruppo. 3-3-8-280 al passaggio. Vediamo, nessuno dà una mano a Giotto dietro. Quindi continuano i due atleti del Bellusco e della Bosica al passaggio di meno 7, campana. Ed è Giacofoni che si rilancia mentre appare più affaticato Valini nella sua azione che viene riassorbito in questo momento dal gruppo capitanato da Murao. E intanto Giacofoni si ripresenta ai punti 280 a 2-9-2. Giacofoni-Mullai. E allora abbiamo... Mullai-Cassarino-Vecato. Ed ecco l'ora al passaggio di 0-5. Ed è Monchiere, attenzione, c'è la caduta per l'atleta del Mareclusa poi un'altra atleta del Bellusco. Per fortuna si rialzano senza conseguenze e in testa del gruppo è Monchiere che va a prendere i punti 7 e 302. Al passaggio questi i punti, quindi Monchiere e Cestarelli. Ed è Monchiere. 3-0-4 eliminato. 3-0-4 eliminato. Deve uscire fuori. 3-0-4 eliminato. E intanto Monchiere che lancia lo sprint con Borsi. Ed ecco lì, ora ai punti 7 e 104. Monchiere e Borsi. Sanitario in pista, per favore. Attenzione, non ora, non ora. Ed eccola la volata, quasi finale, ultimo giro. Ed è Borsi. Monchiere. Ora Borsi è in seconda posizione. Borsi è in punti. Borsi è in punti. Borsi è in punti. Borsi è in punti, poi Monchiere. Ed è Borsi che va a chiedere davanti a Giogemo Cobbata. della Giova Fattinaggio, poi il numero 98. Fichera dei Diamoni Rossi. Questo è il passaggio.